Il Laboratorio Crea Musica è un percorso artistico di confronto e maturazione che offre agli allievi l'opportunità di produrre un proprio brano inedito. Ogni anno, ciascun iscritto in CPM può proporre i suoi brani alla commissione artistica interna che una volta selezionati i più validi, li affida per un anno ad un team di produzione artistica composto da docenti, tutor e allievi dei corsi di writing and production e pro audio engineer. Questi ultimi coordinano la fase di produzione insieme ai musicisti dei corsi di strumento selezionati attraverso un casting. Crea Musica è l'immagine della creatività che ogni anno CPM accoglie e vuole aiutare a svilupparsi. Per questo i brani sono pubblicati e distribuiti ogni anno sui principali store online. Segui Crea Musica su Facebook o sul sito www.centroprofessionemusica.it www.centroprofessionemusica.it